Iso-isterica. Ok. Iso-isterica. Iso-isterica. Iso-isteri. Wasabi-isi. Wabi-wabi. Iso-isterica. Wabi-zabi. Ah sì, è per gente che cerca una roba del genere, che basta. Certo, che alla fine è solo ostentazione. Vabbè, ma che altro sennò sarebbe pubblicità ingannevole? E loro comunque fanno vedere i pregi, ma poi fanno, è bella come trasmissione, perché loro mi fanno vedere il futuro che è il... Mh mh. Poi ti ho detto stanno, che c'è gente che, cioè, si mette in mostra, perché proprio loro, è una trasmissione che loro probabilmente accettano hanno un contratto, e devono accettare anche di mettere in mostra le pecche, perché è impossibile che sennò facciano vedere le pecche. Vabbè, ma che altro sennò sarebbe pubblicità ingannevole? Perché loro comunque fanno vedere i pregi e i difetti, li mettono in risalto tutti e due, però anche i difetti, no? Sì, però come abbiamo visto probabilmente sono dolci. Saranno dolci. Però, beh, ma è giusto. È giusto, sennò sarebbe pubblicità ingannevole. No, no, loro sono dolci, sono dolci, sono dolci, fanno vedere. Vabbè, anche quello è giusto. Vabbè. 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 Non stai. Vabbè. No sto. Grazie.